Un torneo in singolo 6 contro 6 Categoria PU come potete vedere da qua Perfetto Quindi le regole sono quelle di Smogon Per le tier dei Pokémon Nel caso in cui dovessero cambiare da questo momento in poi Ecco prendiamo come riferimento le categorie che hanno i Pokémon in questo istante Quindi 5 luglio Guardateli sono questi qua Quindi intanto lo faccio scorrere mentre continuo a parlare Se non avete showdown guardateli adesso mentre scorrono Cosa almeno ve li tenete bene a mente Allora non si tratterà soltanto di PU Perché potrete usare anche le categorie sottostanti Diciamo come sono NFE e Little Cup Se volete preferirei che usaste soprattutto PU Ma se volete potete usare anche un paio di NFE e di Little Cup Non c'è alcun problema perché più varietà di Pokémon vedo Meglio è una cosa che mi piacerebbe molto vedere Passiamo subito alle iscrizioni Le iscrizioni avverranno fino al 27 luglio Dopodiché non accetto più iscrizioni Quindi fino al 27 luglio potete iscrivervi E i posti sono soltanto 32 Quindi soltanto perché già la scorsa volta Dove avevo meno della metà degli iscritti Ho avuto parecchie adesioni Quindi ricordate che se volete partecipare Siete sicuri di partecipare Perché per favore non ditemi che partecipate Se poi non è così dovete essere certi di dover partecipare Appunto iscrivetevi Come fate di iscrivervi Vi mandate un messaggio privato Oppure nei commenti qui su Youtube Che ho scritto il vostro nome in game Il vostro codice amico Ed eventuale nome su Facebook se volete Perché comunque pubblicherò anche là su Facebook Le informazioni che riporto Sui video che continuerò a caricare Tra un turno e l'altro Comunque sia Fino al 27 ho detto ci sono le iscrizioni L'inizio del torneo sarà il primo d'agosto Il torneo appunto inizia il primo d'agosto E c'è una settimana per fare tutto il primo turno Ecco una cosa che vi raccomando È l'onestà Nel senso sappiate perdere Nel caso in cui state perdendo Non fate rage quit stupidi e queste cose Perché naturalmente io non posso fare da arbitro Io non sto vedendo le lotte Quindi ecco questa è una cosa che vi raccomando Io credo in voi e nella vostra onestà Quindi vedete di non deludere queste mie aspettative Quindi appunto abbiamo detto che il torneo inizia l'uno Avete una settimana per fare il primo turno Nel caso in cui mi mandaste tutti i link Cioè tutti i codici dei video Perché sì a fine delle lotte dovete mandarmi il codice della lotta Nel caso in cui ce l'abbiate Non sia caduta la connessione durante la lotta Così almeno io poi a fine torneo caricherò tutte le vostre lotte Così almeno ci divertiamo un po' Le commento e ci divertiamo un po' Fate vedere un po' quello che sapete fare a tutti Quindi mi mandate il link della lotta Se il primo torneo finisce prima della settimana Iniziamo subito il secondo turno Prima diciamo E lì ci sarà ancora una settimana di tempo Durante la quale potete fare le lotte Se finite prima inizieremo prima il terzo turno E così via Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro Dovrei aver detto tutto Tranne che il premio saranno Tre Pokémon Shiny, Flawless, Blue Pentagon Ancora non ho scelto chi Ma li sceglierò e ve li farò sapere Comunque sono sempre tre Pokémon in più Quindi direi che è sempre un premio di tutto rispetto Intanto qua i Pokémon stanno scendendo Veramente a una lentezza incredibile Quindi vi consiglio di andare subito su Showdown E farvi magari gli screen dei Pokémon Che sono adesso in BUNFE e Little Cup Onde evitare strane, come si dice Strane variazioni nelle tier Già nello scorso torneo E' stata creata proprio la tier PU Mentre avevo fatto il torneo in Neverused Quindi è stata un po' una presa in culo Comunque adesso prendiamo come riferimento questo Quindi, rapido ripasso Iscrizioni fino al 27 Nome in game Eventuale nome su Facebook E codice amico Per iscriversi Mandandomi appunto un messaggio privato Qui su YouTube 32 posti sono il numero massimo di iscritti Il torneo inizia il primo agosto Una settimana di tempo Per fare ciascun turno del torneo Niente Cos'altro dire Spero che partecipiate in molti Almeno tutti i 32 E niente Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Guardate qua che carrellata finale Wom Signori Signori Fino a Mr. Mime No Mime Junior Direi che il team è più che buono Ma Mime Junior Video su bianco e nero Giapponese Buggatissimo Ho fatto due video Di traduzione E